Ciao, sono Francesca Alberghina e oggi vi candido a Miss Italia, racconta l'Italia per la regione Sardegna. Venite con me! Oggi vi ho portato nel mio paese, San Gavino, Moreale. È un piccolo paesino nella provincia del sud della Sardegna, nel Medio Campidano, conosciuto principalmente per la produzione di zafferano. Il paese sta vedendo nascere al suo interno una sempre più crescente mostra a cielo aperto, composta da coloratissimi murales che ravvivano il luogo. E ora iniziamo il nostro viaggio a tema murales. Alle mie spalle troviamo l'incredibile urban art di San Gavino, Moreale, uno dei luoghi più sorprendenti della regione. In merito della street art, aver trasformato il paese di San Gavino, Moreale, da un luogo vuoto ed isolato a una meta immancabile per le appassionate. I murales raccontano attraverso le immagini, la storia e le tradizioni del paese, che vanta un forte legame con la giudicessa Eleonora d'Arborea. Il movimento artistico, esploso nel 2014 con il primo murale promosso dall'Associazione Culturale Schizzo realizzato da Giorgio Casu, ha colorato tantissimi muri e contribuisce attivamente alla riqualificazione urbana e sociale del paese. E voi? Che aspettate? Venite a visitarlo!